Sono nell'area di rigore dell'Inter, Casarza, pallone al centro, c'è Speggiorinne, un colpo di testa, Ceccarini ed è gol, gol di Ceccarini esattamente al terzo minuto di recupero, sensazionale impresa del Perugia, sensazionale impresa del Perugia, Ceccarini ha realizzato per il Perugia alle terzo minuto del recupero, Perugia e nove uomini che colleziona così anche questo risultato positivo, dato che crediamo ora il direttore di gara dovrà per forza decretare la chiusura dei 90 minuti regolamentari.